siamo in campagna ci sono lui e lei appartati in auto sono affaccendati a fare tutte le cose loro quando ad un certo punto lui dai vetri appannati dell'auto vede un uomo che affacciato al finestrino sta spiando da fuori gli strilla oh vai via ma questo rimane lì allora ma te ne vuoi andare ma niente rimane lì così apre il finestrino oh devi andare a casa tua hai capito e lui lo farei volentieri ma non posso e perché non puoi perché mia moglie ha preso le mie chiavi di casa e stava appunto guardando se sono nella sua macchina as molecule e e